un saluto bianco genestro del vostro gigigno buongiorno ragazzi buongiorno gente del tubo buongiorno allora non sono in pienissima forma però siccome che i miei seguaci mi hanno chiesto una live al momento non mi sento magari non me la sento magari oggi pomeriggio potrei organizzare qualcosa allora parliamo di questo brugelazio brugelazio allora brugelazio ieri mattina se ieri mattina mi sono venuto non ero molto convinto poi parlando però con il mio gruppo osso la bianco celeste i ragazzi mi hanno dato carica e aspetta che qua il cane si sta ammazzando col gatto allora dove eravamo rimasti niente i ragazzi mi hanno dato carica e basta voi due allora i ragazzi mi hanno dato carica e ho cominciato a crederci in questa questa vittoria in quel di belgio invece invece è arrivato un pareggio meritatissimo sofferto sofferto abbiamo sofferto il gioco più che altro abbiamo sofferto il gioco del brugelazio perché azioni pericolose forse uno nel primo tempo che ha fatto un paratone reina non è che abbiamo sofferto i tiri in porta del brugelazio perché non è che ne ha fatti molti secondo me ovvio che secondo secondo me se eravamo al completo gli davamo tre pappine però vabbè allora niente 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 di che la lazio va in vantaggio con un'azione superba di correa che la conclude con un tiraggio di sinistro è il tucu è tucutucutu 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 oh yeah grande tucu grande tucu 1 a 0 è il tucu allora lì ragazzi ho cominciato a pensare che questa partita poteva essere portata a casa con i tre appunti e invece il nostro patrizio ogni tanto fa la sua cappella e mettendo praticamente la cintura cinturato il suo attaccante l'attaccante le bruges questi rigori in europa li fischiano anche perché l'hai portato giù a terra quindi perché la palla non arrivava mai lui ma patrizio deve farla ogni tanto la sua cazzata calcio di rigore 1 a 1 e niente secondo tempo fuori patric ha messo dentro per era si è messo una difesa 4 e abbiamo cominciato a giocare a giochicchiare un pochettino e poi è arrivato quel lancio di acerbi per lo stop fontuoso di milinkovic mi ricordava l'azione di lazio juventus sul 2 a 1 e invece poi non è andata come lazio juventus paratone di mignolet e niente la partita è finita 1 a 1 un punto importantissimo per come eravamo conciati con 13 giocatori in meno credo che vada benissimo e niente qualche follower mi ha chiesto di farla live non sto in pieno della forma quindi la organizzerò magari più avanti niente allora con questo vi saluto la lazio la lazio vola 4 punti in testa al girone e va bene così adesso vedremo se torino la lazio si giocherà vi saluto ragazzi e come sempre come dagli cazzo lazio grazie a tutti